Siamo con Mirko Martelli, nato a Castel San Pietro ma che è sempre vissuto a Ponta del Nelice ai piedi della salita che oggi verrà affrontata tre volte, la salita dei Gessi. Tu sei uno scalatore, raccontaci un po' le tue impressioni. Ma è una salita abbastanza regolare, però sicuramente dopo la salita ci sono tre buche, praticamente tra mangi e bevi, che alla terza volta ci faranno sentire sicuramente. Com'è vedere tutti da dietro in qualità di maglia nera del giro? Non è tanto bello, però ci tiene duro per arrivare alla fine del giro. Ascolta, oggi potresti fare una bella prestazione anche per farti un regalo di compleanno, visto che lunedì ne fai 19. Sì, speriamo, speriamo di dar tutto, di trovare una giornata positiva, speriamo di fare qualcosa. Non ti faccio gli in bocca al lupo, non ti faccio gli auguri in anticipo che porta male e speriamo di vederci dopo la tampa. Va bene, crepi il lupo.